Sai che cos'è il BETA? Bene, te lo spiego in due minuti. Il BETA è un indicatore molto utilizzato per valutare il rischio di un titolo o di un portafoglio rispetto il suo mercato di appartenenza. Un esempio ti aiuta a capire meglio. Supponiamo che acquisti un titolo del Fuzzimib, l'indice italiano, italiano e il titolo che hai comprato è definito aggressivo perché ha un BETA o un e mezzo, il che significa che se l'indice fa più 1 il tuo titolo farà più un e mezzo, se invece l'indice fa meno 1 il tuo titolo farà meno un e mezzo. Se invece il BETA supponiamo è inferiore a 1, facciamo il caso 0,5, significa che è un titolo difensivo perché se l'indice farà più 1 fa più 0,5, ma se l'indice fa meno 1 è un difensivo perché farà meno 0,5. Quindi il BETA ti aiuta a capire se il tuo titolo è aggressivo con un BETA superiore a 1 oppure un difensivo e quindi con un BETA inferiore a 1. Allo stesso modo si può misurare il BETA di un portafoglio come la media ponderata dei titoli che lo compongono. In questo caso quindi misura il rischio di mercato del tuo portafoglio. Se hai un BETA superiore a 1 vuol dire che stai sovrappesando il rischio di mercato. Se invece hai un BETA inferiore a 1 stai sottopesando il rischio di mercato, hai un portafoglio difensivo rispetto al tuo benchmark. Per farti un esempio pratico, se hai un portafoglio che ha un BETA superiore a 1 probabilmente hai un certo numero di titoli growth, tecnologici, quelli più aggressivi. Mentre invece se hai un BETA di portafoglio inferiore a 1 allora molto probabilmente hai dei titoli difensivi come per esempio il settore farmaceutico.